Volete? Io no, grazie. Certo che questo hacker è un tipo sospettoso. Niente radio, niente internet, niente GPS. Se il tuo cognato non ti avesse prestato questo cesso con le ruote saremmo fritti. Il problema è capire dove siamo. Lì c'è scritto qualcosa. Flancur, cacciate una cartina se non facciamo notte. L'ultima volta che ho usato una cartina è stata quando ho fatto il militare. Sì, pronto. Miranda! Dai Bertrand! Che c'è? Si era detto niente telefono, così ci localizzano in meno di un rutto. Ora non posso solo dal dentista, ho il trapano in bocca. Dammi la cartina. Eccoci qua. Questa è obbligatoria? Sì, impedisce il riconoscimento facciale via satellite. Il suo nome in codice è Dio e sta in una turbina eolica. A sapere quale? Beh, separiamoci, il primo che la trova avvisa gli altri. Io vado di là. Io... Datti una mossa Bertrand. Sì, sto andando. Vediamo di non perderci. Chiaro. Sì, sto andando. Sì, sto andando. Sì, sto andando. Sous-titrage ST' 501